Salve a tutti, in questo video vedremo 5 trucchi, 5 trucchi, no 4 e no 3 per OBS Studio su come migliorare i nostri video. Allora, primo trucco, primo, primo, primo trucco, allora, utilizzare layout di scena personalizzato per creare setup di streaming più professionali. Allora, setup di streaming più professionali, praticamente vi andate a vedere i vari video precedenti e io vi spiego come si creano o si possono creare vari tipi di layout per vari scopi. Quello è il modo per creare dei video personalizzati vostri e che siano professionali. Ok, 2, allora, trucco numero 2, sfrutta le trasmissioni in diretta su più piattaforme per raggiungere più pubblico possibile. Allora, praticamente potete andare su varie piattaforme di streaming e adesso non me ne viene in mente nessuna, però intendo ci sono delle piattaforme di streaming che fungono da aggregatori. Quindi, se vado in, adesso vediamo un attimo, restrema io per esempio, eccolo qua, posso dirgli di streamare su più piattaforme in contemporanea. Quindi, su OBS Studio, streamo direttamente su restrema io e invece da restrema io gli dico di andare su Twitch, Facebook, Youtube, quello che voglio. Ok, e questo è un modo per essere raggiunto da più utenti perché immancabilmente ci saranno gli utenti che non vogliono usare Twitch o che vogliono usare Twitch e non usano tanto Youtube e che usano ancora Facebook. Quindi raggiungerete più utenti possibili. Terzo trucco, imparo a utilizzare i plugin per estendere le funzionalità di OBS Studio. Ma certo, perché OBS Studio è pieno di plugin utilissimi, tipo Spectralizer con l'audio. Adesso cominciamo a usarlo e non funziona perché Spectralizer ha da essere configurato. Adesso lo configuriamo, proprietà, Spectralizer, gli diciamo microfono. Eccolo qua, eccolo, questo è Spectralizer ed è interessante per gli musicisti per esempio. Ok, e ci sono tanti altri plugin che si possono utilizzare e servono per vari scopi e ogni plugin ha il suo significato. Mi raccomando, imparate a utilizzarli, imparate a metterli nei posti giusti nel vostro video perché se riempite i vari video di OBS Studio, di plugin a casaccio, fate una porcata. Però, utilizzare i video nei posti giusti è bello perché per esempio io avevo il plugin che faceva il freeze della mia videocamera. Da un po' che non lo uso, quindi non ricordo le scorciatoie che avevo messo, se mi sono ancora rimaste. Ecco, sì, allora adesso per esempio io posso dire che i miei plugin sono bellissimi perché, 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 perché hanno gli effetti dei plugin giusti. Ecco che mi è rimasta la videocamera ferma per un totto di secondi, ecco, questo è un esempio. Ok, adesso, qui è il quarto, siamo arrivati quasi verso la fine. Usa la modalità eco per fare facilmente contenuti loop. Certo, per esempio, per il video potete avere uno sfondo del mare che si muove e lo sfondo non finirà mai perché mettete il loop, ecco, e quindi andate a mettere il video in loop. E quindi l'effetto cicla e se l'avete creato bene il loop non si nota il taglio dall'inizio alla fine, quindi è anche bello da vedere e può essere per uno sfondo che si muove un po' dinamico. Ok, quinto e ultimo consiglio, esportare video in tanti formati diversi e in soluzioni adatte per tutte le piattaforme. Per esempio, ricordatevi che OBS Studio può fare anche video in verticale per le piattaforme tipo Instagram o TikTok e si può direttamente importare video dal PC a TikTok passando attraverso OBS Studio che è video. Poi lo metto su Telegram, poi dal cellulare, salvo il video nella sessione video e poi Telegram o TikTok vedono il video salvato. Io posso fare l'importazione e aggiungerci quello che mi interessa o lasciarlo così e metterci solo i tag. Allora, spero che questi trucchi vi siano stati utili e che possiate sfruttarli al massimo per utilizzare bene 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 OBS Studio. Se avete altre domande o suggerimenti lasciate un commento qui sotto. Una cosa che devo dirvi assolutamente è che questo video è stato creato in collaborazione con ChatGPT che mi ha suggerito esattamente tutto quello che dovevo dire in questo fantastico video. Quindi questo video è una domanda ChatGPT e la risposta di ChatGPT però ha funzionato perché è quello che vi sto spiegando che vale la pena di spiegarvi. Per questo video è tutto.